che poi è la bellezza che apprende subito dico le gambe, l'importante è non mettersi a fare la guerra quando sbaglia fare vinta di me, fare fare il sale e ripetere e ripetere, le gambe delle gambe delle gambe e ripetere, ti appassare che sei abituare agli 80 kg di mei più 7-8 kg della selva come porta il galoppo tra 3-4-5 giorni lo facciamo, l'importante è la serenità grazie 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 grazie